Maxi operazione antidroga nel Terramano, 20 arresti e sequestro di sostanze stupefacenti per oltre 10 milioni di euro. Alle prime luci dell'alba la polizia ha arrestato sei italiani e sei albanesi coinvolti nel traffico di droga. I risultati sono stati comunicati in mattinata durante una conferenza stampa dal capo della squadra mobile Roberta Cicchetti, dal questore Carmine Soriente e dal sostituto procuratore Laura Colica. 8 dei 20 arresti sono stati effettuati in fragranza di reato, mentre gli altri 12 sono stati eseguiti in seguito all'ordinanza emessa dal GIP di Teramo. Tra gli arrestati 8 sono stati rintracciati nel territorio teramano, di cui sei italiani e due albanesi. Tre albanesi nel territorio ascolano e uno nel Ravennate, sempre della stessa nazionalità. L'indagine ha preso avvio da un sequestro di 16 chili di eroina e 20 grammi di cocaina effettuato nella frazione di Floriano di Campli, lo scorso novembre ai danni dell'albanese che è tuttora latitante. La droga rinvenuta in un casolare abbandonato non era stata tagliata e sarebbe divenuta pari a 70 chili una volta emessa sul mercato. Il soggetto che si aggirava intorno all'edificio riuscì a fuggire a sottrarsi al fermo di polizia. Vennero sparati anche colpi in aria dagli agenti da questa prima operazione avvenuta a fine 2022 e poi partita quella presentata in conferenza stampa. Due teramani già noti alle forze dell'ordine risultano essere stati gli abituali clienti del latitante albanese avvalendosi di stretti collaboratori per lo smercio. Portavano avanti anche un servizio di consegna porta a porta delle dosi. L'indagine ha poi portato all'individuazione di altri soggetti coinvolti nel traffico di droga, inclusi cinque cittadini albanesi residenti a Martinsicuro e a Tortoreto, i quali erano coinvolti nella detenzione di una grande quantità di eroina sufficiente a produrre circa 100.000 dosi. Questa droga era detenuta in concorso tra l'albanese ancora latitante e un complice residente ad Ascoli Piceno con l'aiuto di un corriere marchigiano. L'operazione antidroga ha permesso di sventare una vasta rete di traffico di sostanze stupefacenti che coinvolgeva italiani e albanesi, segnando un importante successo delle forze dell'ordine nel contrasto al crimine organizzato nel territorio.